buongiorno buongiorno a tutti ragazzi questa è un'improvvisata ma avevo proprio voglia di condividere con voi un particolare di un paio di prodotti interessanti per cui buongiorno a tutti non vi avevo avvertito di questa diretta ma poi avrete modo di rivederla con comodo allora prima di tutto per volevo rispondere a un paio di domande per quanto riguarda gli shake dovete sapere che probabilmente forse vi è anche arrivato ci sono c'è un ricettario molto 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 straordinario vediamo un po se riesco a farlo vedere dove ci sono un sacco di ricette queste sono state fatte da i migliori tra tre dei migliori barman italiani hanno veramente delle ricette spettacolari degli shake che sono veramente gustosi altra cosa che volevo dirvi sono usciti la profumazione d'ambiente io le ho ordinati e non vedo l'ora che arrivino perché veramente rendono la tua casa smart intelligente soave danno un sapore di bellezza all'ambiente alla tua casa che sono straordinari tra parentesi poi volevo anche dirvi che con questo avete anche buongiorno ciao barbara buongiorno enrica avete la possibilità di fare anche dei regali per questo natale per queste festività ci sono veramente tante 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 soluzioni un particolare a volte capita che quando parliamo di prodotti o di sistemi o di novità come ad esempio tutte le il settore della dell'abbigliamento biomolecolare molti ti chiedono le misure le taglie ecco magari chiedere al tuo sponsor però è molto semplice vai sul sito se hai il pc meglio un tablet vedi meglio comunque vai sul sito e vedi tutte le caratteristiche dei prodotti magari ancora non l'hai fatto ma fallo perché hanno lavorato veramente molto molto sulla sulla sulle informazioni per cui hai la possibilità anche di scaricare le schede avere un sacco di informazioni aggiuntive guardate nel sito ci sono tantissime cose da poter regalare e fare una gran bella figura lasciare un buon profumo in tutti i sensi per queste festività anche a poco io oggi però volevo parlarvi di due cose di cose importanti che abbiamo in casa e qualcuno non lo sa allora mi faccio aiutare un attimino dalla regia vediamo un po se ci riesco prima di tutto volevo parlarvi di questo immaginate di che conoscete qualcuno che vi suggerisce di queste queste erbe allora la prima la prima interessante è la vitamina d3 dovete sapere che è la più importante forma di vitamina d perché che cosa fa regola il metabolismo osseo le mali le malattie autoimmuni regola le funzioni neuromuscolari allora detto in termini più semplici significa che questa vitamina riesce a trasmettere l'energia l'elettricità la forza in tutto quelli che sono le terminazioni nervose per cui c'è una migliore risposta alla a questo tipo di energia da parte di tutta la tutta tutta la muscolatura è straordinaria per i sintomi della depressione a che cosa serve la vitamina d3 e perché è la più importante forma di tutte le forme di vitamina d perché è fondamentale per il rafforzamento delle ossa e aiuta l'assorbimento del fosforo del calcio nell'intestino ora che cosa significa questo che praticamente è nell'intestino che viene la mineralizzazione delle proteine e nell'intestino che viene la mineralizzazione per le ossa questa vitamina d permette un migliore assorbimento di queste sostanze che poi magari se sei una donna sai quanto è importante il calcio il fosforo il rame il magnesio una cosa straordinaria che a me è servita moltissimo è quella del dato che io ho problemi di l'eredità di mio padre mi ha lasciato i calcoli ereni ho sempre problemi di assorbimento qualcuno se mi conosce da qualche tempo sa che io ho qui un problema le ghiandole salivare legato proprio a un una condizione di 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 produzione di calcificazione molto 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 veloce ecco questa vitamina d permette il riassorbimento del calcio ai reni significa che se in qualsiasi modo ha delle infiammazioni rispetto a questo o facilmente hai produzione di calcoli ai reni questa vitamina d ti fa fare ti da ti da una marcia in più per espellere velocemente appunto questo calcio inutile pensate che in certe situazioni a livello omeopatico la vitamina d presa in natura e permette ostacola la comparsa dei delle dei disordini autoimmuni esempio l'artrite reumatoide il lupus ecco la vitamina d è straordinaria in questo poi andiamo ancora avanti e mettiamo conto che poi conosciamo ci fa conoscere il tarassaco che cosa ha il tarassaco di così particolare ha proprietà depurative anti infiammatorie abbiamo già fatto una diretta la scorsa settimana su che cosa significa anti infiammatorio e riesce a depurare velocemente il fegato stimola le funzionalità epatico renali allora che cosa qual è l'aiuto diretto diciamo che aiuta a pulire gli emuntori per cui la pelle il fegato i reni riesce a purificarli meglio tanto che viene usato spesso nei periodi di detox i principi i principi e i componenti del del fito complesso sono nel tarassaco della vitamina a b c e d che probabilmente magari qualcuno non sa ma sono anche dei veri ormoni favorisce l'eliminazione delle scorie per cui cosa significa che favorisce l'eliminazione dell'eccesso di zucchero dei trigliceridi del colesterolo degli acidi urici per cui è diciamo un propedeutico per avere maggiore sufficienza epatica per quanto riguarda di nuovi calcoli stimoli la stimola la diuresi per cui che cosa fa elimina i liquidi in eccesso ed è per cui straordinario per la ritenzione idrica la cellulite e chiaramente permette anche una cosa straordinaria oltre che semplicemente essere un straordinario drenante all'interno del di questo fiore di questa pianta c'è una buona produzione di n o nitrocoxide ossido nitrico ossido nitrico premio nobile della medicina 1988 luis ignarro io ho avuto il piacere di poter fare con lui quattro corsi di formazione dunque seconda scoperta delle medicina più importante tra le 22 principali dopo la spirina per cui ossido nitrico la chiamano la molecola di dio l'ossido nitrico quello che ci tiene in vita questo ha una buona produzione di ossido nitrico per cui c'è assolutamente già subito si impennano le difese immunitarie pensate in questa erba erba andiamo ancora un'altra erba che ci fanno conoscere che è la betulla la betulla viene molto usata in omeopatia per cosa viene usata a livello medico per la gotta i reumatismi l'artrose i dolori articolari le infizioni nel tratto urinario la perita dei capelli la fosfora ecco la fosfora la forfora sì perché poi c'era il passaggio col fosforo dunque aggiungiamo un'altra cosa se ci facessero conoscere delle erbe contengono rame rame vedete un po qui quando le piante hanno quelle macchioline lì è probabilmente perché manca il rame allora il rame in sé è un fungicida il corpo umano pensate in camera il 50 per cento del rame nelle ossa nei muscoli nel fegato nel cuore e nel cervello ed è il secondo minerale più diffuso nel corpo ed è soprattutto fondamentale perché accende i processi metabolici per la fertilità la formazione della melanina e protegge la formazione dei coaguli poi probabilmente qualcuno ha anche sentito parlare del carciofo sapete le proprietà del carciofo allora il carciofo quando parli di carciofo associ subito alla pulizia del fegato protegge è un protettore indiscusso del fegato e regolarizza l'intestino e regolarizza la pressione poi se a questo ci aggiungiamo anche potassio eccoci qua il potassio è straordinario lo sappiamo lo sanno tutti coloro che hanno problemi di ritenzione idrica diciamo che il potassio riequilibria il rapporto che c'è tra l'eccesso idrico intra extracellulare che è il problema poi dove nasce dove nascono quegli accumuli di 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 acqua che ci danno gli inestetismi quando il sodio per cui il sale supera il potassio il corpo trattiene l'acqua e lo fa per sciogliere il sale il sodio e dove si accumula nelle gambe nei glutei dove noi troviamo un po i nostri gonfiori svolge anche un'azione nella sintesi proteica e degli zuccheri ed è straordinario perché a livello giornaliero per me permette di di da di portare energia metabolica ai muscoli ora tutta sta roba qui se potesse essere dentro una bustina e se potesse essere dentro una bustina che addirittura costa pochissimo ecco molti di noi non lo sanno perché ce l'hanno già a casa e che è questo qua eccolo lì tutta sta roba e poi ho messo anche il super magnesio adesso non so se c'ho l'immagine qui no non ce l'ho il super magnesio che è l'elemento numero uno che c'è qua in queste bostine allora che cosa voglio dirvi che questo è un prodotto che è veramente miracoloso dal punto di vista estetico per cui pelle capelli tanto riesce a purificare meglio gli emuntori per cui da dall'inestetismo del viso che può essere i brufoli che vi posso dire le rughe ecco la corposità del viso la pelle ecco questo è un prodotto che ha del miracoloso da lì poi anche il concetto della cellulite ora un particolare questi prodotti hanno perché possono essere divulgate promossi da chiunque perché hanno un'autorizzazione che si chiama rda ratio daily assumption che vuol dire la razione minima consigliata molti non sanno che cosa significa significa che questa qui serve giusto 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 per un bambino per la sopravvivenza dunque pensare perché poi troviamo anche in certi post in certi cosi di chissà certo non c'è su pub med o sulle ricirche scientifiche ci sono dei dottori che tra parentesi l'ottanta per cento di chi scrive post ricordatevelo soprattutto per quanto riguarda i micronutrienti fibre vitamine minerali l'ottanta per cento mondiale dei post che noi troviamo in certi post in certi siti anche autorizzati sono pagati proprio una tata tata dalle aziende farmaceutiche che come ben sappiamo vogliono che stiamo bene alle loro dipendenze comunque i medicinali servono tuttavia non esiste a livello fisiologico un eccesso di vitamine minerali e guardate quanto è semplice ragazzi ci si arriva veramente con la logica allora quando è che si dice che una sostanza può in qualche modo avere un effetto terapeutico per cui interagisce nel bene o nel male con il corpo quando ce n'è un eccesso il problema è che non esiste non esiste proprio una indagine un test una verifica sulle fibre vitamine minerali dell'eccesso cioè non possono avere un effetto terapeutico tanto da poter turbare le condizioni nostro corpo perché è molto semplice se tu leggi allora l'eccesso di vitamina d se ne prendi mi invento un numero a caso 1500 milligrammi ragazzi numero a caso me lo sono inventato adesso la domanda è ma per chi perché lì non c'è scritto qual è il target perché se lo stesso quantitativo lo prende un uomo che pesa 110 chili e magari ha 100 chili di muscoli o un lottatore di sumo o un campione mondiale di rugby o di football e che capisci bene che la stessa proporzione non è uguale di zia beppina la mia o di un altro per cui queste congetture sono tali non esiste in realtà tra parentesi poi solo l'eccesso può in qualche modo turbare il corpo facciamo un esempio tutti sanno benissimo che il cavolo cappuccio ha proprietà anti tumorali uniche ma se ti mangi solo il cavolo cappuccio dalla mattina alla sera per cinque mesi è probabile che avrai carenze anche di altro tipo dunque l'equilibrio sta bene a tutte le parti è impossibile avere un eccesso di sali minerali a meno che io mi nutra solo di questo tipo una scatola al giorno ora io me ne prendo almeno due tre almeno due prima di andare a dormire sempre perché avendoci essendoci super magnesio dormo molto 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 meglio ho sempre dolori muscolari mi fa benissimo perché il super magnesio viene definito il grande calmante abbiamo fatto già due tre video su questo e soprattutto ecco io sono di quegli uomini che ha la cellulite porca puttanazza basta che mi lasciano tantino andare che mangia un po più di carboidrati che mi trattengono i liquidi boom mi torna la cellulite i lardelli sta roba qua con chi me la prendo neanche con mio padre mia madre è la genetica lo accetto fine allora cosa faccio soluzione rapida veloce efficace sicura prendo due tre questi al giorno e vi posso dire che veramente si sta decisamente meglio essendo prodotti naturali non è che tu lo prendi il miracolo viene domani ma nella costanza ecco questo è un prodotto che io a casa non mi farò mancare mai altro elemento che adesso ci serve un po per le festività e con questo concluso volevo aggiungere per quanto riguarda la cellulite perdonatemi un attimino che voglio rimettermi qua eccoci qua no cosa succede cosa succede nulla che è successo qui oddio ok speriamo che vada vuoi ricaricare il sito ricarica ok che che è successo allora ragazzi non so che cosa è successo vediamo un po vediamo un po vediamo un po vediamo un po aspettate un po allora io non ho ben capito qui vada avanti vediamo cosa succede allora l'altro elemento che volevo dirvi è questo proprio perché parlavamo della cellulite qualcuno di voi lo la conosce io ero scetticissimo sulle creme anticellulite dicono ma cos'è queste puttanate madonna se hanno lavorato bene dentro hanno messo un'erba famelica un'erba come si dice quelle erbe che mangiano mangiano la carne vabbè è un'erba carnivora appunto allora questo è straordinario basta che lo provate una volta non lo mollate più lo mettete perdonatemi ma io ho bisogno che vedo se sta andando alla trasmissione ok lo mettete lo mettete in qualsiasi posto vedete subito come diventate rossi paonazzi perché sta lavorando non vi racconto una delle prime volte che l'ho messa l'ho messa nella panza e nei fianchi e poi siccome si assorbe bene a un buon odore così prendo e va fa a posto mi vesto e mi ero dimenticato di fare una cosa allora poi sono andato a fare pipì e te tocchi dio mio ho avuto un momento di panico perché nelle mani ne è rimasta un po questa e quella brucia dunque questo per dirvi che ho capito che funzionava veramente questo è anche un altro prodotto straordinario da regalare anche per natale comunque farne un uso personale la crema anticellulite sicuramente ci sono persone che l'hanno usata possono scrivere sotto i commenti perché è veramente straordinaria ultimo elemento questo è la raccomandazione che voglio darvi per queste festività eccolo qua aspettate fatemi vedere fatemi vedere che non ho capito perché stamattina fa ste cazzate allora dunque questo qua real fibre allora voi sapete che chi sto seguendo che è già passato alla seconda la terza fase insegna come si compone un deficit calorico che non è solamente meno calorie e ti sforzi di più ma è anche usare l'effetto termico del cibo le fibre assorbono dal 10 al 20 per cento significa che se io mangio mille calorie ci metto dentro le fibre in realtà il mio corpo ne prende solo 800 900 le altre se le spappa le fibre e ci faccio delle belle sonore cagate ma qui avete letto che c'è l'inulina avete letto che ci sono prebiotici non sono solo fibre dal punto di vista pratico per quanto riguarda le festività ragazzi questa una bustina prima di mangiare una bustina subito dopo aver mangiato tutte le volte pranzo e cena permettete innanzitutto di ridurre le calorie ma di far lavorare meglio l'intestino di non gonfiarci subito e di eliminarlo con rapidità per cui i grassi in qualche modo non attecchiscono dunque questo potete paragonarlo a un ciucciagrassi ogni volta che mangiato una pizza un dolce un qualche cosa in più ciucciagrassi real fibre per concludere perché vi ho messo questi due prodotti perché è termino allora nelle festività che sia un weekend o che sia una festività come queste che stiamo trascorrendo o il prossimo natale sappiamo che mangeremo più carboidrati carbo carbonio energia si lega al idra idrato acqua ogni volta è un dato certo tranne che non siano carboidrati della vegetazione quando è un carboidrato lavorato per cui parliamo dalla pasta a tutto ciò che c'è dopo pane riso sta cosa qua dovete sapere che noi prendiamo i carboidrati ma ci portiamo detto tanta 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 acqua andiamo sulla bilancia e ci incazziamo come delle iene ma sappiate che non è grasso per evitare a livello psicologico estetico questo gonfioro in estetismo o che nel tempo si accumuli abbiamo questi due strumenti straordinari questo prendere prima e dopo e tra parentesi ne prenderei comunque almeno due al giorno perché una è veramente poca sono 8 grammi di fibre le donne ne dovrebbero mangiare 25 e gli uomini 35 al giorno abbiamo detto ritenzione idrica e io mi prendo una di queste una di queste prima e dopo e tac 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 meno sensi di colpa meno problemi meno ritenzione idrica meno gonfiore meno grasso e per cui trascorro le festività con un po più di serenità ragazzi volevo dirvi questo perché il motivo del perché ho scelto questo sponsor e altri miei colleghi questo è perché lavorano veramente veramente di grande eccellenza concludo prossima settimana c'è l'ultima lezione del percorso benessere la 9 e la 10 dove parleremo del cuore e farò anche un intervento su come si costruisce un piano di lavoro a livello di allenamento personale da poter fare anche a casa ragazzi passate bene queste feste oggi è stata un'improvvisata grazie ancora della vostra attenzione ciao ciao quando si spegnerà